Shabbat shalom e benvenuti all'estratto settimanale di questa Parashah a parte del Kadima progetto devoluto alle famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni che è iniziato a settembre 5782 e si concluderà alla fine di questo anno con la pubblicazione degli estratti appunto del magazine della rivista che saranno disponibili a tutti non solo come pdf come è stato ricevuto fino ad ora settimanalmente ma anche in versione stampata sia in italiano che in inglese logicamente in ebraico e in spagnolo. Per coloro che sono interessati a partecipare al progetto Kadima possono scrivere a contatto chiocciolamakassesheltikva.org e come appunto primo frutto questa rivista rappresenta una preparazione per le famiglie i cui bambini si accingono a conoscere un po' di più della Torah quindi è una rivista che è creata proprio per poter parlare alla nuova generazione in una maniera creativa e gioiosa e soprattutto alla loro portata quindi per essere compresa in maniera anche semplice e dolce quindi con l'aiuto di un adulto un parente un nonno una nonna o un insegnante può essere un sicuro strumento di guida fino a poi l'iscrizione che è quella richiesta alla fine del del progetto che vede la partecipazione alla scuola ebraica giudeo messianica in Ermarva Italia che è per ora un programma pomeridiano quindi dopo scuola e nella scuola ebraica giudeo messianica ed Ermarva Italia si imparano diverse cose quindi così come nella rivista c'è un po' appunto della lingua ebraica che viene poi fatta in maniera più completa nella scuola e ci sono le tradizioni c'è la laka e c'è appunto la storia di Israele e la parashah che è il primo approccio proprio settimanale che è insegnato in maniera creativa quindi attraverso attività attraverso giochi attraverso la creatività quindi attraverso la danza che noi facciamo insieme ai bambini alle famiglie e anche attraverso quindi lavoretti che possono ricordare far memorizzare anche con la manualità quelli che sono i concetti imparati durante l'Erev Shabbat che ogni venerdì alle 6 ora italiana viene svolta con le famiglie parte del progetto Calimà e prima di iniziare preghiamo avinu malchenu nostro padre nostro re ti ringraziamo per la possibilità e l'onore che ci dai di servirti e non è qualcosa che è garantito ma tu ci hai chiamati tu ci hai scelti tu ci hai consacrati e ci porti avanti secondo la tua volontà secondo le tue vie ti chiediamo di benedire di curare ogni mente ogni anima ogni cuore che partecipa a questo progetto attraverso le sessioni di counseling familiari per bambini per ragazzi per adulti di coppia di matrimonio che siano benedetti ognuno di loro signore che possano fare la tua volontà secondo la tua torà di verità e secondo il piano di redenzione che tu ci hai mostrato attraverso Moshiach Yeshua il Moshiach che deve venire per tutta Israele che noi abbiamo già ricevuto attraverso la tua redenzione sulla croce di esecuzione romana dove è morto ma è risorto è risorto a nuova vita e vive in noi e ritornerà per tutti noi una volta e per sempre per essere con noi e regnare qui a Gerusalemme nel nome potente di Yeshua HaMashiach e così come siamo onorati di servire a Shem in spirito e verità chiediamo sempre a tutti coloro che si accingono appunto a partecipare al progetto di collaborare così come è il principio fondamentale nel giudaismo ci sopportiamo e supportiamo gli uni con gli altri in maniera pratica e quindi è importante supportare il progetto in maniera pratica settimanalmente appunto mensilmente con le proprie decime al ministero alla congregazione e al progetto Kadima è un progetto fatto proprio per portare secondo l'insegnamento della Torah la Torah alle nuove generazioni ed è questo il primo principio secondo il quale ogni ebreo e riceve appunto insegnamento di quello di portare alla generazione futura così come Moshe fece agli israeliti di generazione in generazione la Torah gli insegnamenti che così importanti sono per ognuno di noi sin dalla nascita e facendo questo espletiamo appunto la volontà di Shem nelle nostre vite il nostro proposito nella vita è compiuto e quando lo facciamo supportandoci gli uni con gli altri facciamo in modo che Shem cresca in noi e che noi diminuiamo sempre di più in modo che lui possa crescere e noi possiamo diminuire e che con umiltà con compassione possiamo servirlo e servendo lui serviamo anche tutta la clalla ebraica ma non solo tutti coloro che credono in Moshe e a Chieshu e tutti coloro che ancora non lo conoscono e che vogliono conoscere un po' più di lui meno un po' più di Israele un po' più della Torah e di Hashem Allora oggi dedichiamo questo tempo di estratto della Parashah, la Parashah Shelak e per sapere appunto qualcosa in più del sostegno al progetto Kadimaia e alla Parashah Shelak così come a qualsiasi altra sezione della porzione di Torah di oggi e di quelle passate o di quelle future scelta personale e poterle dedicare, per poterle dedicare in onore, in memoria di qualcuno a voi vicino potete contattarci a contatto chiocciolamacassesheltikva.org Bene, parliamo di nervosismo nell'ultimo minuto sono solo tre settimane di viaggio verso la terra di Canaan ma invece di fare le valigie bene Israele chiedono a gran voce una spedizione di spionaggio non sono molto sicuri di loro stessi e pensano come potrebbe far male se chiediamo a Moshe di fare questo invio speciale di spie avanti a noi anziché fare un passo di fede ed entrare in Erez Israele ma meraviglia delle meraviglie queste spie appunto mandate proprio per poter fare quel passo di fede che il bene Israele non ha coraggio di fare ritornano con uva molto gigante e gigantesca ma anche con tanta cattiva informazione e provocano un grande caos e il flusso di un viaggio di tre settimane si trasforma quindi in una marcia di 40 anni perché questo cattivo, cattiva parola, cattivo giudizio, cattivo report portato dalle spie cattiva informazione provoca un grande enorme ritardo e una punizione eterna per la generazione di Moshe che muore totalmente nel deserto in Midbar questo viaggio che doveva essere solo tre settimane ed erano lì per entrare per questa generazione si trasformerà in una tomba per loro perché Hashem decreterà di loro la morte ma prima dovranno scontare, prima della morte dovranno passare 40 anni ben 40 anni nel deserto in Midbar e scopriamo tutto questo appunto in questo emozionante episodio del progetto Kadima e della rivista Devash e ci sono tre mitzvot in questa parashah due mitzvot a sé che sono comandi positivi, comandamenti positivi e un solo mitzvot lot a sé, ossia negativo o proibizione 119 pesuchim o frasi 1540 numeri di parole e 5820 lettere l'Aftora che è la porzione profetica che si legge subito dopo la lettura della Torah viene dal libro di Yehoshua che è Giosuè, capitolo 2, versetti 1 fino al 24 che vi invito a leggere personalmente con le vostre mishpachot le vostre famiglie in questo weekend così da vivere un tempo speciale e unico che ricorderanno, ricorderete per tutta la vostra vita quindi Shabbat Mevachim Kodesh Tamutz è il Rosh Kodesh mercoledì e giovedì giugno 29 e 30 2022 quindi molti appuntamenti e questa settimana studiamo il capitolo 3 di Pirkei Avot ossia l'etica dei padri veniamo alla parashah nell'ultimo episodio che abbiamo studiato insieme ha visto bene Israel che ha avuto la febbre di Erez Israele quando la nuvola di gloria è iniziata per una corsa di tre giorni verso la linea di porta di Erez Israele quindi c'è stato un momento di panico ma Reb Rai che non è una buona dice che non è una buona moltitudine quella di Ibn Israele avendo i convertiti venuti dall'Egitto e determina Reb Rai un fallo all'interno del popolo di Israele di Ibn Israele e Reb Rai a causa di questa sua dedizione porta alla prossima appunto alla prossima interpretazione del popolo di Israele che è giustificata dal dubbio appunto dalla paura dell'affrontare i popoli che allora occupavano i rezi di Israele dicendo mandiamo le spie avanti all'apertura di questa parasha quindi Moshe annuncia che atterreranno presso l'Erez Israele tra un paio di giorni e c'è una reazione mista a questa notizia da un lato Bene Israele è felice che la promessa di Hashem e Avraham sia per realizzarsi d'altra parte l'Erez Israele è occupata da sette nazioni i cui eserciti possono probabilmente colpire e distruggere Bene Israele dopo tutti i miracoli quindi che si sono vissuti nell'anno passato e due battaglie lungo la strada ancora Bene Israele pecca di mancanza di fede non riesce a credere non riesce ad avere fiducia in Hashem e Hashem si occuperà di tutto tutto ciò che chiede è un po' di fede Bene gli ebrei ottengono un momento di grande ispirazione qui perché vogliono fare le cose a modo loro e quindi dicono inviamo delle spie per controllare la terra di Rez Israele e vedere se vale la pena combattere per vivere in quella terra Moshe è colto di sorpresa e chiede ad Hashem cosa fare Hashem non è molto contento di questa idea ma comanda Moshe di scegliere un uomo da uno Shevet da una delle tribù per spiare la terra e Moshe sceglie un uomo migliore da ogni Shevet con l'eccezione della Shevet Levi e questi uomini scelti sono tutti grandi Zadikim grandi giusti e Moshe raccoglie le spie e stabilisce alcune regole la prima regola è quella di viaggiare sempre durante il giorno quindi non durante la notte in maniera sicura e partire dal sud andando verso nord la seconda regola è quella di scoprire se le nazioni sono un branco di fifoni che si nascondono dietro città murate sicure e quante persone occupano queste città naturalmente Moshe spinge sul lato panoramico dell'escursione la terza regola è quella di dare un'occhiata ai pozzi esistenti ai frutti della terra e di non dimenticare di portare alcuni campioni di frutti appunto della terra Moshe pensa che la soluzione quindi sia arrivata che se Rez Israele tutto ciò che si crede sia queste spie trascineranno di sicuro il bene Israele a Canaan ma purtroppo la sua predizione non è conforme alla realtà dei fatti e vediamo che cosa accade innanzitutto viene fatta una presentazione di Yehoshua ufficialmente da parte di Moshe non so se ricordate il nome di Oshea questo perché lo cambia appunto viene cambiato il nome di Oshea in Yehoshua Joshua o Josue e Yehoshua è uno degli studenti più premiati di Moshe è stato scelto per essere una spia e Moshe aggiunge la lettera Yud all'inizio del suo nome proprio per rappresentare nel suo nome il nome di Ashen quindi già una caratteristica di scelta e consacrazione di quest'uomo e Moshe spera che Hashem manterrà Yehoshua al sicuro dai piani diabolici delle spie perché le spie sono gelose e non sono tutte obbedienti ad Hashem e se ne vanno con un piccolo aiuto da parte di Hashem le spie entrano da sud come Moshe ha detto non ha senso indossare un travestimento e ovunque vadano le spie Hashem affligge la popolazione quindi Hashem colpisce le popolazioni dove le spie vanno tiene persone impiegnate a piangere per esempio i morti mentre le spie passano quindi la mano di Hashem opera in maniera miracolosa in ogni loro passo e le spie scoprono infatti che Erez Israele è davvero una terra in cui scorre latte e miele come indicato da Moshe secondo la parola di Hashem e nel sud di Erez Israele che si presume essere una terra molto meno fertile del nord e ancora così è i frutti crescono in proporzioni gigantesche ma le spie non hanno intenzione di tornare con un buon rapporto quindi la loro intenzione nel loro cuore era già quella di riportare una cattiva notizia perché in parole povere sono codardi e hanno paura di entrare in guerra con quelle nazioni che occupano la terra di Canaan e diranno ogni cosa che servirà a bloccare Israele dall'entrare in Erez Israele i frutti di Erez Israele solo da Yehoshua in Caleb e Caleb vengono riportati attraverso un buon rapporto quindi attraverso un buon una buona notizia un buon sommario di quello che era stato visto e Yehoshua è molto forte nelle sue esclamazioni facendo sapere alle altre spie che quello che stanno facendo è sbagliato e Caleb tuttavia mantiene una posizione diciamo di mezzo mantiene la calma mentre Yehoshua è molto più preso nelle discussioni contro le spie bugiarde e aspetta Caleb il momento giusto per rivelare la sua fedeltà a Moshe e le spie tuttavia raccolgono alcuni campioni da riportare al Midbar nel deserto hanno ad esempio preso una vite di grappolo d'uva che è gigantesca occorrono otto di loro per trasportare un grappolo e un altro uomo porta una mela grano e ancora un altro tiene in equilibrio un fico gigante sembra che stiano soddisfacendo quindi le richieste di Moshe ma queste spie hanno ulteriori motivi per trascinare indietro i frutti giganti e vedremo perché le spie portano a casa la Sean Ora come come abbiamo visto precedentemente abbiamo imparato il problema lo spirito di maldicenza di gossip di la Sean Ora era già stato causa di morte nel e malattia nel popolo di Israele 40 giorni dopo l'otto di Av le spie tornano a Midbar nel deserto e passano davanti alla tenda di Moshe diretti all'impianto di amplificazione e trasmettono il loro la Sean Orala il loro cattivo rapporto falso all'intera nazione di Israele iniziano dicendo che a Rez Israele si scorre davvero latte e miele e che la terra si produce frutti enormi fin qui va tutto bene ma a questo punto le spie si rivoltano contro Moshe come al solito e annunciano che solo i super umani i super eroi potrebbero vivere in una terra del genere le spie continuano a scoraggiare quindi bene Israele con molte ragioni per non tentare assolutamente di entrare in erezzi Israele non c'è posto per un attacco furtivo ci sono giganti che vivono lì ci sono malattie pestilenze ovunque voi andiate e la folla è in subbuio Moshe cerca di ricordare loro che Hashem farà il vero combattimento perché la battaglia è sua non è l'Ibane Israele ma queste spie vogliono continuare a non sentirlo il popolo purtroppo segue queste spie e non vuole sentire ragioni quindi Caleb si avvicina al diciamo al podio e finalmente Caleb urla e non è tutto ciò che Moshe che ci ha fatto la folla quindi si calma con la speranza di sentire di più di la Shonorah come sempre la folla invece di voler servire Hashem e voler servire in spirito e verità vuole sentire solo maldicenze e questo purtroppo lo vediamo anche al nostro nei nostri tempi ma non è così quindi Caleb ricorda al popolo la dedizione di Moshe Moshe spaccò il mare divise il mare fece piovere la manna ogni mattina e ci guiderà la conquista della terra di Israele con l'aiuto di Hashem Moshe quindi riprende da qui il suo messaggio ricordando che al popolo di Israele che Yehoshua è d'accordo sul fatto che possano vincere ma il punteggio è di dieci a due dieci spie che sono bugiarde e false e portano maldicenza mentre le due Yehoshua e Caleb sono le uniche due che parlano positivamente e portano una buona notizia e buona testimonianza da parte di Erezzi Israele e purtroppo la pessima relazione su quanto è stato vissuto in Erezzi Israele da parte delle spie vince in un grido non c'è ritorno l'oscurità quindi piomba cala su Bene Israele un momento veramente oscuro della storia del popolo di Israele e le spie hanno per sempre condannato Bene Israele e la generazione di Moshe a ricordare Tisha B'Av il nove di Av che noi ricommemoriamo e celebriamo ogni anno come il giorno dell'oscurità in eterno per sempre quello che avrebbe potuto essere che sarebbe potuto essere un grande kiddush Hashem è invece diventato un chilul Hashem tormentato da l'ashon ora il campo è nel caos il campo di Bene Israele è nel completo caos anche il sinedrio è sconvolto e il popolo lancia pietre contro Yehoshua e Caleb immaginiamo come dovevano sentirsi Yehoshua e Caleb che avevano riportato la verità e il popolo si rammarica addirittura di aver lasciato Mitzray in Egitto la schiavitù e Moshe e Aronne conoscono bene questo questa scena hanno già vissuto tante volte questa scena e cadono a terra in preghiera sperando oltre ogni speranza di placare la rabbia di Israele che finalmente possa fidarsi di Hashem e che possano placare la rabbia di Hashem che in quel momento potrebbe ucciderli tutti prima che il disastro colpisca loro pregano stendendosi a terra a faccia a terra ma è troppo tardi in vista di tutti il completo popolo di Israele guarda la nube della gloria che sorge sul Mishkan e Hashem dice a Moshe quanto tempo ci vorrà prima che bene Israele si fidi di me hanno visto segni hanno sperimentato meraviglie dovrebbero avere abbastanza fede che io possa renderli vittoriosi sui Cananei i Cananim e darò loro ai Rez Israele sono pronto a questo punto a spazzarli via tutti ucciderli tutti e ricominciare da capo con Temoshe ma a questo punto generare una eliminare la nazione di Israele non è nell'agenda di Moshe e che aspetto avranno quindi le nazioni del mondo che cosa penseranno le nazioni del mondo se Hashem annienterà l'intero bene Israele nel mezzo del deserto penseranno che Hashem sia un dio rabbioso che non ha mai avuto intenzione di portare il suo popolo nella terra promessa in primo luogo Hashem quindi accetta questa tefilà questa preghiera di intercessione di Moshe con un paio di condizioni anche se non avrebbe se non avesse spazzato via il bene Israele il popolo di Israele avrebbe però spazzato via questa generazione tutta la generazione di Moshe sarebbe morta gli ebrei non sarebbero mai entrati nella terra di Israele secondo quella generazione a soli tre giorni di marcia da qui dai rezi Israele dove sarebbero potuti entrare invece dice Hashem rimarranno nel deserto per 40 anni fino a quando questa generazione interamente se ne sarà andata sarà morta quindi quindi la prossima generazione solo dopo la loro morte la loro estinzione entrerà in erezzi Israele sotto la guida di Yehoshu e Kalev e come parte dell'accordo le spie che hanno parlato di Lashonorah muoiono di una morte orribile come tutti coloro che si erano opposti ad Hashem e al suo piano di redenzione e le loro lingue si allungarono si attaccarono fino allo stomaco i vermi strisciarono nelle loro pancie facendoli morire quindi di una morte orribile morirono queste bugiarde e maldicenti spie e un gruppo rinuncia c'è un gruppo a questo punto all'interno di Ibn Israele che dice dopo aver ascoltato le parole di Hashem siccome tutti il popolo a quel punto si rende conto di essere stata egoista di essere stato infedele ad Hashem immediatamente tutto il popolo fa tshuva fa pentimento richiede perdono in preda alla disperazione immaginiamo qualcuno che sa di dover morire ma non solo si deve aspettare 40 anni di disperazione nel deserto prima di farlo in preda alla disperazione un gruppo da Ibn Israele improvvisamente decide di attraversare il confine e affrontare i Cananim i Cananei stessi ma senza Hashem dalla loro parte il loro destino è segnato e naturalmente senza Hashem dalla loro parte le forze armate di Amalek eterno nemico di Israele e Canan li distruggono i combattimenti tra ebrei quindi e Cananei vedono i Cananei vincere e Amalekiti vincere contro questo gruppo di ebrei che aveva avanzato appunto il passo verso Erez Israele senza essere Hashem dalla loro parte tutte le speranze quindi di entrare i nerezi Israele sono deluse per tutti per i prossimi 40 anni immaginiamo l'orrore che deve esserci stato per 40 anni di queste persone che saranno morte spiritualmente a ogni passo che facevano nell'eserto erano già morte come un condannato a morte che vive in una prigione per 40 anni e sa che morirà in quella prigione e sarà ghigliottinato o sarà messo a morte certamente quella persona è già morta non ha speranza se non conosce appunto la redenzione messianica in Moshe a Chieshua per cui pregheremo insieme e un altro Mitzvot in questa Parashah dice come come si ferma una nazione dal lutto dalla morte dai loro più Mitzvot a questo punto Hashem vuole che questa generazione appunto muoia ma che la generazione più giovane di Bene Israel sappia che egli intende ancora dare loro Erez Israele quindi dal loro Mitzvot non più alla generazione di Moshe a cui non parla più e dà a questa generazione una speranza attraverso l'applicazione di Mitzvot che si applicheranno solo quando solo quando cioè fra 40 anni quando i Bene Israel entreranno in Erez Israele quando tutta la generazione di Moshe sarà stata rasa al suolo fatta fuori morta allora e solo allora l'applicazione di questi Mitzvot potranno avere luogo e questo è molto importante perché ci sono stati 40 anni in cui praticamente parte del popolo ha vissuto nella futura morte e tragicamente mentre la nuova generazione aveva ancora questa speranza ma doveva aspettare 40 anni per poter vivere questa speranza e una di queste Mitzvot date appunto alla generazione di Josue Yehoshua consiste nell'aggiungere farina mescolata con l'olio l'offerta del pasto e del vino della libagione a quasi tutti i Corban portati al Mitzvayak e questo perché perché nell'offerta della libagione e l'offerta del pasto c'è un sacrificio molto più grande di quello che è stato vissuto dalla generazione precedente perché quando si dà un'offerta di pasto un'offerta appunto come è per noi la roccata donai quando ci riuniamo e mangiamo insieme il pasto del Signore appunto la cena del Signore a roccata donai lì c'è un sacrificio che è molto più alto di quello che è stato vissuto precedentemente e che afferma il sacrificio di lode che noi facciamo oggi a nome del Moshe Achishua ma che allora nella generazione di Yoshua era vissuto attraverso un sacrificio animale appunto e anche di cibo quindi dei prodotti della terra perché si doveva applicare con i prodotti della terra di Erezzi Israele che non si aveva nel deserto quindi quanto poi di ciascun frutto o di ciascun animale o del vino bene questo dipende dal Corban quindi per ogni Corban Hashem avrebbe dato delle specifiche delle specifiche dosi e parliamo infatti per la prima volta in questa Parashah della separazione dell'impasto una mitzvah importante è della challah ossia quando un ebreo un ebrea cuoce circa cinque libri di di pasta fatta con le cinque principali specie di grano che sono grano orzo avena segale e farro deve prima separare un pezzo di pasta e darlo a un koen quindi a un sacerdote nel tempio ed è lo stesso che darà il koen terumah dai raccolti del campo questa porzione è chiamata challah e noi la separiamo a ogni Erev Shabbat quando appunto prepariamo il pane le nostre calotte da mangiare solo a Shabbat e la challah ha le dimensioni di un'oliva quindi non è molto grande ma rappresenta questa porzione e in questi giorni questa porzione viene bruciata nell'ortodossia poiché non ci sono koanin non c'è tempio e non ci sono koanin puri a cui poterli dare come ebrei messianici noi utilizziamo questa parte invece per essere data ai poveri perché ancora può essere utilizzata per benedire appunto i poveri coloro che hanno possibilità di essere benedetti attraverso la challah ed è anche un momento di comunicazione di ciò che in cui noi crediamo e le regole di Shabbat anche in questa parasha si parla delle regole di Shabbat infatti quando Ben Israel lasciarono Mitzrayim Hashem diede loro la mitzvah di osservare lo Shabbat non appena arrivavano arrivavano appunto nel deserto poiché le leggi dello Shabbat sono un gruppo molto difficile e le Moshe nominò Shomrim esperti delle leggi dello Shabbat per assicurarsi che nessuno infrangesse le leggi del settimo giorno ora la Torah si rompe si rompe con delle notizie un uomo è stato visto raccogliere ramoscelli durante lo Shabbat bene le guardie gridano al tempo di Moshe fermati questo è proibito sotto la melaka che è il lavoro di meamer e quindi raccogliere piante durante lo Shabbat è proibito ma l'uomo ignora lo Shomrim e viene portato quindi davanti alla corte di Moshe per essere giudicato il verdetto è quello di lapidarlo addirittura a morte questo insegna alla nazione israele che osservare quindi le regole di Shabbat è una legge da prendere molto sul serio e questo viene applicato nell'ortodossia come ebrei nel Messia noi abbiamo ricevuto la redenzione messianica in Yeshua HaMashiach Gesù il Messia che è il signore dello Shabbat e che riporta appunto nel Brit Kadashah che proprio in una situazione in cui i suoi talmidimi i suoi discepoli erano a appunto prendere dei rami no dei rami scusate delle paiuzze appunto di di grano per mangiare e furono appunto richiamati dai sacerdoti ortodossi ma Yeshua appunto dichiarò io sono il signore dello Shabbat dello Shabbat e questo è importante saperlo perché questo rappresentava il mangiare e il cibarsi per i poveri questi discepoli talmidim erano poveri ed è per questo che noi nella nel dare appunto questa piccola porzione diamo simbolicamente una porzione ai poveri a coloro che hanno bisogno durante lo Shabbat di mangiare e un'altra mitzvah di questo di questa parasha è quella degli Tzitzit la parasha si porta avanti appunto la mitzvah degli Tzitzit quella mitzvah a 5 stelle che è vicina alla cima della classifica della popolarità infatti tutti anche i non ebrei conoscono gli Tzitzit e Hashem comanda tutti gli uomini e oggigiorno ci sono anche le donne ebree di attaccare gli Tzitzit a qualsiasi indumento che abbia quattro angoli adesso esistono quelli già fatti che si comprano e hanno gli Tzitzit fatti ma nella ortodossia si fanno personalmente gli Tzitzit sono un insieme appunto di quattro cordicelle piegate a metà per formarne otto e le corde sono annodate e arrotolate in modo speciale le otto corde pendono come delle nappe ai quattro angoli appunto del talit il taled che viene usato per la preghiera e parte della mitzvah consiste nel tingere di blu uno dei fili bianchi in ogni angolo con il sangue di un pesce chiamato kilazon ai vecchi tempi ai tempi di Moshe questo kilazon era diciamo un pesce molto conosciuto era un gioco da ragazzi trovare questo kilazon ma al tempo d'oggi questo kilazon è scomparso e oggi non sappiamo con certezza quale sia questo kilazon anche se il comandamento deve essere adempiuto solo se un ebreo indossa un indumento a quattro angoli tradizionalmente si indossano indumenti a quattro angoli appositamente realizzati per adempiere questa mitzvah di tzitzit ogni giorno infatti come dicevo si vendono già fatti si comprano già fatti e gli tzitzit sono fatti per essere guardati non per essere nascosti quindi ci ricordano che siamo i servitori di escemo osservando tutte le sue mitzvot ma c'è sempre un desertore nel diciamo nel rango ma per saperne di più sintonizzatevi la prossima settimana mentre Horak e la sua band la sua banda cercano di organizzare una rivoluzione un bounty all'interno di Bneisrael e sono duri lavori come sempre per Moshe e Aron che devono vedersela con loro nel prossimo emozionante episodio di Progetto Kadima e della rivista De Bash e ora prima di terminare diamo uno sguardo al Midrash parlavamo del nome di Oshea molti non conoscono Yehoshua come Oshea perché Moshe cambiò il suo nome a Yehoshua ecco la storia la parasha di questa settimana da Devarim capitolo 1 versetti 23 fino al 36 racconta come 12 meraglim o spie verranno inviate per indagare Suarez Israele con l'eccezione di Yehoshua e Kaleb e si tornarono con un cattivissimo rapporto denigratorio e bugiardo nel tentativo di scoraggiare la clale Israele dall'entrare nella terra di Israele e fu solo allora che attraverso la preghiera e l'assistenza speciale divina che Yehoshua e Kaleb furono in grado di resistere alla pressione e all'influenza dei loro compagni meraglim resistendo a quell'unione nel loro peccato il Talmud trattato Sotà 34b riferisce infatti che Moshe Rabbeinu percependo il potenziale errore dei meraglim aggiunse la lettera Yud alla parte anteriore del nome originale di Yehoshua cambiandolo da Oshea a Yehoshua e infatti questa Yud rappresenta proprio il nome di Hashem Moshe sperava che Hashem mantenesse Yehoshua consacrato al sicuro dai diabolici piani delle spie e Moshe così pregò Hashem Oshiacha Mai Azzà Meraglim possa Hashem salvarti dal piano delle spie Kaleb che non ricevette tale benedizione da parte di Moshe si recò a Hebron al Meorat a Machapela che è la grotta dei patriarchi dove sono ancora oggi le loro tombe in fondo appunto nei sotterranei pregò per la protezione dai piani peccaminosi di queste spie implorò Yavot i patriarchi di intercedere in suo favore e il Talmud nel trattato Sanhedrin o del Sinedrio 107a spiega che la lettera Yud che Moshe aggiunse a Oshea ossia a Joshua a Gesù e scusate per formare il nome Yehoshua era la Yud che fu rimossa dal nome di Sarà come il suo nome fu chiamato da Sorai a Sarà nel libro della Bereshit capitolo 17 versetto 15 per addolcire quindi questo Yud che era contrario a cedere alla sua posizione in nome di Sara fu preso aggiunto al nome di Joshua lo Yud che è stato rimosso quindi dal nome di Sara non aveva alcun necodotto ossia vocali quindi ponendo la domanda da dove ha acquisito la vocale Shwa dopo essere stato aggiunto al nome di Joshua quindi questa è la spiegazione la Rizal spiega che è stata presa dalla parola ben dal nome Yehoshua ben nun è interessante notare che la Torah vocalizza la parola del nome di Yehoshua come un kirik ossia un singolo punto o bin invece di usare la vocale segol standardizzata in ben che ha tre punti pertanto i due punti per lo iuda aggiungono aggiunto sono stati presi dalla parola ben che ora leggi bin e qui concludiamo in preghiera Avinu Malkeinu nostro padre nostro re ti ringraziamo per tanta benedizione per la tua protezione così come è stato per Yehoshua come sì come è stato per Caleb e Moshe Aronne e la generazione la loro generazione padre ti chiediamo di guidare i nostri passi perché possiamo vincere ogni battaglia in tuo nome perché la battaglia è tua signore e perché tu possa mostrarci ogni passo uno dopo l'altro e che noi in obbedienza possiamo seguire i tuoi mitzvot senza guardarci a destra o a sinistra ma seguendo la tua Torah di verità ricevuta attraverso la redenzione in Moshe Chieshua Ben David Amen Amen Shavua Tova a tutti voi benedizioni in Moshe Chieshua